So quello che state per fare, ho già perso mio marito, non voglio perdere la mia famiglia. Promettimi di riportarli tutti, sani e salvi. Entriamo, facciamo polizia e ammazziamo chiunque ci impedisca di uscire, chiaro? Siete della polizia? I papponi dell'ultimo piano, giusto? Li affumichiamo e becchiamo quelli che escono. Gli insegneremo la Marsigliese. Ma che succede? Che cazzo succede? Ti avete visti bene? Sfondano le porte con una mano e ti sbudellano con un solo morso. E se gli spari si rialzano, non possiamo ucciderli, sono già morti, maledizione! Ce ne sono migliaia sotto la torre. Siamo spacciati. Non c'è più niente da fare ormai! Se ci tieni alla tua squadra... E tu ci tieni alla tua! Non mi toccare! Perché sei scelto a batti con quella peggia? In questo momento mi trovo tra centinaia di sopravvigliuti! I tuoi stati d'animo li tieni per te, sbirro! Venite da questa parte! Amanti, figli di puttana!